Un incontro partecipato e ricco di spunti di riflessione, quello che si è svolto nei giorni scorsi presso l'Università della Terza Età di Soverato, all'interno dei venerdì culturali per la presentazione dell'ultimo lavoro letterario di Daniela Rabia, Le Voci dell'Eco. Un romanzo che trasuda emozioni, speranza, amore per la Calabria, la storia ambientata a Speriolo, un qualsiasi piccolo borgo calabrese, dove vive il protagonista, Goi, giovane 17enne che frequenta l'ultimo anno dell'Istituto Agrario. Ma quel mondo li sta stretto perché racchiude ipocrisie, pettegolezzi, cattiverie e dal quale vuole fuggire alla fine del suo percorso di studi. Ma attraverso la capacità di guardarsi dentro, aiutato da altri personaggi chiave del libro, che trova le motivazioni sufficienti per restare, superando le difficoltà e inventandosi un'attività. Incontriamo ai nostri microfoni Daniela Rabia, soddisfatta per l'interesse che il romanzo ha suscitato tra il pubblico dell'Uniter, la cui presidente Sina Montebello ha mirabilmente introdotto i lavori, proseguiti con le domande rivolte all'autrice da parte di Eleonora Fossella Maria Grazia Posca della libreria Non ci resta che leggere. Daniela dà naufragio alla vita a Matilde e alle voci dell'Eco. Spesso hai definito quest'ultimo romanzo un momento di evoluzione della tua scrittura. Com'è avvenuto questo percorso? Sì, Naufragio alla vita è la prima mia opera, una raccolta di poesie e c'è puramente la poesia. Il primo appoggio invece verso il romanzo è con Matilde Non aspettare la vita non ti aspetta. È un romanzo che definisco ancora in cui le mie potenzialità di scrittrice sono in embrione, perché ci sono troppi profili autobiografici, in Matilde io sono troppo, io come Daniela sono troppo. Questo romanzo, le voci dell'Eco, rappresenta un momento di evoluzione della mia scrittura perché in questo caso io ho costruito un personaggio non totalmente mutuato da me stesso, ma molto da quello che mi circonda, da quello che ho visto, da una tematica che mi colpisce molto, ovvero lo spopolamento dei borghi e quindi in questo già considero che ci sia un salto di qualità perché calarsi nei panni di un giovine di 17 anni non è un'operazione semplicissima. Il romanzo presentato in diverse scuole calabresi, proprio per le tematiche che affronta legate alle difficoltà taviche di questa terra, rappresenta un esempio di positività e propositività per i tanti giovani che in Calabria sono attanagliati dal dilemma andare o restare. L'ho presentato in alcune scuole perché come ho scritto il libro c'era la campagna Libriamoci quindi ho avuto la possibilità di presentarlo in una serie di scuole di Catanzaro, Botricello, Sellia Marina e lì c'è stato un approccio particolare a questi ragazzi, io gli ho fatto ascoltare molto le pagine del libro e poi sono stata io stessa ad ascoltare loro più che altro. Quindi c'è stato un tipo di presentazione diversa da quella che si è svolta qui stasera con un pubblico adulto, con un pubblico diverso e quindi tento sempre di adeguare le parole che dico per descrivere il romanzo all'uditorio che ho di fronte. I ragazzi mi hanno colpita perché ho trovato un loro entusiasmo nell'ascolto e un'allora curiosità e quindi credo che la curiosità sia fondamentalmente il fattore principale. In realtà l'ispirazione è nata girando molto i paesi della Calabria, quello che ho mutuato particolarmente dai giovani, anzi l'ho proprio rubato ai giovani, il loro linguaggio perché appena ho terminato il romanzo mi sono accorta che il linguaggio era troppo mio, troppo di una donna adulta e poco di un giovane di 17 anni e allora ho fatto questa operazione particolare di andare in un bar frequentato da ragazzi e cercare di ascoltare il loro modo di esprimersi e rubare un po' loro queste parole che annotavo in maniera anche metodica su un taccuino per poi rientrare nel mio testo e cambiare determinate parti con le parole che usano questi ragazzi. L'appuntamento è con il prossimo lavoro di Daniela Arabia, a dire il vero già pronto ma per il momento riposto nel cassetto, in quello stesso cassetto in cui sono custoditi i disegni della sorella Antonella che costituiscono le copertine dei suoi libri. Ci puoi dare qualche anticipazione sul romanzo che hai appena terminato di scrivere? Allora, in realtà è un libro che uscirà l'anno prossimo, è successo questo, io stavo scrivendo quell'altro testo, una notte mi è suonata la sveglia per errore alle tre di notte ed è partito da sola alle voci dell'Eco, che mi ha costretta a scrivere questo testo che sembrava voleva scriversi da solo e nel frattempo abbandonare l'altro. Per cui l'altro l'ho ripreso poi nel tempo, ora è terminato, però devo dare un po' di spazio a Go in questo momento alle voci dell'Eco per portarlo in giro e poi avviare una nuova pubblicazione di quest'altro testo che è finito. Grazie a tutti.